bentornati su my football jersey quella che vedete è la terza maglia del palmeras per la stagione in corso la 2023 24 in edizione fan l'edizione fan quella un po più comoda più confortevole pensata per i tifosi la maglia molto bella prendo spesso le maglie del palmeras questa non poteva mancare questo giallo fluo e questa rifinitura in verde secondo me sono molto molto belle è la maglia di quest'anno che preferisco del palmeras il costo lo vedete qui sopra molto basso se considerate anche che comprende le spese di spedizione per avere tutti i dettagli per ordinare la maglia o per visitare il sito trovate i riferimenti qua sotto in descrizione sempre sotto andate a vedere perché c'è un link col quale potrete ottenere un coupon da 5 dollari quindi cosa aspettate prima di lasciarvi la parte finale nella quale vedrete le misure di questa bellissima maglia vi ricordo sempre di iscrivervi al canale a voi non costa nulla ma a noi serve tantissimo per oggi è tutto alla prossima ciao 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 ciao